Voi non siete per strada, non avete la consapevolezza di quello che è portare avanti una bottega. Io non accetto che ci sia qualcuno che dica che io non mi rendo conto. Io sono uno nato per strada, io sono uno nato per strada. Faccia finire, scusi, da Roma, da Roma, scusa un attimo Faraone, un attimo. Io sono uno nato per strada, cresciuto nei quartieri periferici di Palermo e io so benissimo. Benissimo, tanto più devo avere la consapevolezza di tagliarsi. Faccia finire da Roma, faccia finire da Roma, faccia finire da Roma, faccia finire da Roma. Io ce l'ho nel mio cuore, la sofferenza di arrivare. Aspetta un momento, non si capisce un cazzo. Ora l'ho detta la parola, così è tutto chiaro. Un attimo da Roma, poi la faccio rintervenire. Gian Maria, sto microfono, sistemalo dall'altra parte. Prego Faraone, prego. Ecco, prego. Io sono cresciuto nei quartieri di periferia di Palermo. Io sono uno che con i commercianti convivo, costruisco percorsi insieme economici, mi sollecitano emendamenti quando è stato dimenticato un codice a teco, mi sollecitano la cassa integrazione quando qualcuno la percepisce troppo tardi. Per cui non accetto che ci sia qualcuno che metta in dubbio il mio lavoro e la mia buona fede. Stiamo facendo l'impossibile in un momento che è difficilissimo. Lo sappiamo che in questo momento non c'è fatturato per molte aziende. Ma chi se l'aspettava una pandemia di questo tipo e una crisi economica così forte? Abbiamo investito 100 miliardi, non bastano, lo sappiamo, dobbiamo fare di più. Ma nessuno può dire che c'è qualcuno che si sta mettendo le mani in tasca e non fa un tubo. Non è accettabile. Noi stiamo soffrendo per le sofferenze di questo tipo. Faraone, ha parlato chiaro. Maria Stella ha detto in questo momento che noi avremmo... che apra gli occhi sulla necessità di sospendere le tasse. Fami finire. Perché tanto non le incassate. Si sarebbero... Arrivo, arrivo. Arrivo. Tu hai detto che si sarebbero fatti investimenti economici come governo nazionale e poi queste risorse non sarebbero state spese. Noi abbiamo appena fatto un provvedimento ristori con tutti gli avanzi di quello che non era stato speso. Bene, mette la prova. Circa 4 miliardi e mezzo. Quindi con i 4 miliardi... Ma sai che ci sono ancora i centri storici? Ci sono ancora le aziende dei centri storici che aspettano i soldi da 6 mesi e non li hanno ancora avuti. Fammi finire. Su 100 miliardi sono rimasti, non spesi, 4 miliardi e mezzo. Questi 4 miliardi e mezzo li abbiamo spesi per questo ristori. Abbiamo fatto una manovra di bilancio di altri 38 miliardi. Facciamo un altro scostamento a un avvento di 7 proprio per cancellare le tasse sul novembre e dicembre. Quello che stai dicendo tu. Quindi ascoltando anche la tua rindicazione. Facciamolo. Facciamolo. Però... No, 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 il problema è l'atteggiamento. Ma no, non dire l'atteggiamento perché guarda... Qui siamo di fronte, siamo di fronte a una crisi enorme. Chiunque di fronte a questa crisi avrebbe avuto le difficoltà che abbiamo noi. Non ci sono dei mandrake in panchina. Non ci sono dei mandrake in panchina. Non ci sono dei mandrake in panchina. Siamo tutti di fronte a un'emergenza. No, non ci sono dei mandrake in panchina.